SIGILIA 24 SIGILIA nel Catanese dove i carabinieri hanno tratto in arresto un cinquantenne con l'accusa di atti persecutori nei confronti della propria compagna. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato nella flagranza un cinquantenne del posto poiché è ritenuto responsabile di atti persecutori. I militari dell'arma erano intervenuti a seguito di una richiesta d'aiuto da parte di una quarantasettenne giarrese che attraverso il 112 aveva avvertito l'operatore della centrale operativa dei carabinieri di Giarre di essere appena stata malmenata dal proprio compagno, il quale avrebbe anche rivolto minacce di morte nei suoi confronti e della sua famiglia. I militari hanno pertanto raggiunto l'abitazione della donna trovando effettivamente davanti l'ingresso il figlio di quest'ultima in compagnia del cinquantenne che in evidente stato di ebrezza alcolica e nonostante la presenza degli stessi carabinieri cercava di entrare all'interno dell'appartamento bussando violentemente alla porta. La donna, divorziata, ha in seguito sporto denuncia contro il compagno, Reo a suo dire, di un'ossessiva gelosia che lo avrebbe quotidianamente portato a episodi di violenza fisica o verbale, con minacce di morte anche nei confronti dei suoi familiari, manifestazioni che si acuivano con l'assunzione di sostanze alcoliche di cui l'uomo avrebbe abusato. Ma non era tutto perché il cinquantenne, con il quale aveva allacciato una relazione sentimentale nel maggio del 2021, condizionava la sua vita controllandola ossessivamente con videochiamate, nel corso delle quali la costante era rappresentata dalla richiesta di sapere perché si trovava online e con chi stesse parlando. Tale comportamento, mai denunciato per timori di violente reazioni di quest'ultimo, ha fatto maturare alla donna la decisione di interrompere quel rapporto malato, ma successivamente, ritenendo che il comportamento dell'ex compagno fosse cambiato, ha riallacciato la relazione nel gennaio di quest'anno. Nulla però era realmente mutato, anzi, quel giorno l'uomo, per il sol fatto di non avere la quarantasettenne accettato di raggiungere insieme un albergo con la moto del compagno, anziché in auto, l'avrebbe presa a schiaffi e ingiuriata tirando in ballo i carabinieri, perché questi ultimi, transitando proprio in quel momento e avendola a vista discutere con il cinquantenne, le avevano chiesto se andasse tutto bene, ottenendo risposta positiva. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Ci spostiamo a Messina, dove un uomo di 80 anni è stato accoltellato questa mattina. Il fatto è avvenuto nel rione Annunziata, con l'uomo che è stato trafitto da queste coltellate, al culmine di una lite, pare, nata per dissidi condominali. L'aggressore è stato già fermato dagli agenti della Polizia di Stato, mentre l'anziano, che ha avuto delle lesioni al collo e al torace, è stato trasportato all'ospedale Papardo di Messina e le sue condizioni sono gravi. Ed ora a Lentini, nel Siracusano, dove è stato invece tratto in arresto un cinquantacinquenne, il quale è accusato di avere abusato sessualmente di una ragazzina, una minorenne, figlia della sua compagna. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza d'arresto emessa dal GIP di Siracusa nei confronti di un uomo di Lentini, un cinquantacinquenne, accusato di avere abusato sessualmente della figlia minorenne della propria compagna. Le indagini degli investigatori del commissariato sono scattate dopo che la minore non aveva più fatto rientro a casa. I poliziotti sono riusciti a rintracciarla in breve tempo, ma hanno voluto approfondire i motivi di quell'allontanamento. Grazie alle intercettazioni, gli investigatori avrebbero accertato che il compagno della madre, in passato, aveva più volte abusato sessualmente di lei. Gli allontanamenti della ragazzina erano quindi dovuti al tentativo di sottrarsi alle violenze. L'uomo è ora accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne aggravati. Ed ora nel Palermitano, dove i carabinieri hanno invece effettuato due arresti tra Bagheria e Santa Flavia. Un giovane è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. L'altro arresto invece per furto aggravato. I carabinieri di Bagheria, nel corso di un servizio di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio. Tramite una perquisizione all'interno dell'abitazione del giovane, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 23 grammi di cocaina, 32 di hashish e 66 di marijuana, oltre a quasi 600 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Merese, che ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Per la sostanza stupefacente al sequestro seguiranno le rituali analisi qualitative e quantitative a cura del competente laboratorio del Comando Provinciale di Palermo. A Santa Flavia, invece, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un 41enne con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. Mentre effettuavano l'installazione di un braccialetto elettronico presso l'abitazione di un 22enne ai domiciliari, hanno notato come la corrente elettrica rimanesse attiva nonostante il contatore fosse stato staccato. Insieme al personale tecnico dell'azienda Enel Distribuzione, i grabinieri hanno quindi accertato l'esistenza di un allaccio abusivo dell'appartamento alla rete pubblica, che sarebbe stato realizzato dal 41enne, padre convivente del giovane. Il GIP di Termini Merese ha convalidato l'arresto. La squadra mobile e il commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto 4 persone in esecuzione agli ordini di carcerazione emessi in seguito alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Caltanissetta per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione e altro. I quattro arrestati, tutti gelesi, devono scontare la pena della reclusione in carcere. Nello specifico si tratta di un 31enne condannato a 6 anni, 1 mese e 23 giorni, un 51enne e un 37enne, entrambi condannati a 5 anni, 11 mesi e 3 giorni, e un 57enne, il quale deve invece scontare la pena di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. I quattro soggetti, dopo l'arresto, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Caltanissetta. Ed ora invece a Catania parliamo dei controlli effettuati dai carabinieri per contrastare l'illegalità diffusa. 11 persone sono state denunciate ma sono scattate anche diverse sanzioni. I carabinieri della compagnia di Catania Fontana Rossa, supportati dai colleghi del XII Regimento Sicilia e in collaborazione con il personale dello Spresal della Polizia Locale di Catania, nonché delle distribuzioni, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di contrasto all'illegalità diffusa e di verifica del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali. Le attività di verifica hanno riguardato diverse attività commerciali, tra cui un'officina di via Zia Lisa, il cui titolare, un sessantenne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per un importo di 23.500 euro per violazioni accertate dai militari relative all'assenza del locale spogliatoio, alla presenza di estintori non revisionati, nonché di attrezzature da lavoro non conformi. All'interno dell'officina, al momento del controllo, è stata riscontrata la presenza anche di sei lavoratori in nero e tale circostanza ha fatto scattare nei confronti del titolare una maxisanzione di 10.800 euro. Analoga attività ispettiva, effettuata presso una carrozzeria nella stessa strada, ha consentito ai carabinieri di denunciare il titolare, un sessantenne catanese, per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e violazione delle norme in materia ambientale, in quanto è stata riscontrata all'interno dell'attività l'assenza del locale spogliatoio e degli estintori con conseguente ammenda dell'importo di 16.500 euro. I militari operanti hanno anche sottoposto a sequestro un'area esterna adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali, nonché al sequestro di attrezzature e vernici. L'attività commerciale è stata temporaneamente chiusa per mancanza della scia, con applicazione di una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro. Il titolare di un'altra officina meccanica, un 46enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La sua attività commerciale, ubicata in una traversa della stradale San Giorgio, è stata chiusa temporaneamente per mancanza della scia, con applicazione di una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro, oltre al sequestro di tutte le attrezzature presenti. Le verifiche effettuate con il personale di e-distribuzione si sono concluse con la denuncia per furto aggravato di un 46enne catanese titolare di una barberia ubicata in zona Zialisa. Il personale tecnico della società di distribuzione ha accertato che l'attività commerciale aveva un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, con un danno stimato per la società di distribuzione di circa 16.000 euro. I medesimi controlli, effettuati presso uno stabile di via Terreforti, hanno portato al deferimento di quattro persone resesi responsabili del reato di furto aggravato per aver sottratto indebitamente energia elettrica, poiché ne usufruivano a contatore fermo, con un danno stimato per l'edistribuzione di circa 80.000 euro complessivi. I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai carabinieri di identificare una quarantina di persone e di sottoporre a verifica una trentina di veicoli, con la contestazione di una quindicina di violazioni al codice della strada e l'elevazione di sanzioni amministrative per un importo di oltre 15.000 euro. È scattata la denuncia per guida senza patente per tre persone sorprese alla guida di autovetture senza aver mai conseguito la patente, poiché hanno recidivato tale condotta nel biennio, nonché il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei rispettivi veicoli. Restiamo nel Catanese, ci spostiamo però virtualmente ad Acireale. Parliamo dei controlli effettuati in città dai carabinieri. Il bilancio di questi controlli parla di una denuncia, diverse sanzioni e anche di un arresto. Si tratta di un soggetto che era evaso dai domiciliari. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Acireale sono stati impegnati in un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa dello spaccio di droga dei reati contro la persona e il patrimonio. I posti di controllo effettuati nelle frazioni e in corrispondenza dei principali snodi viari hanno consentito di denunciare una 48enne di Mister Bianco per guida in stato di ebrezza. La donna infatti è stata controllata dai militari dell'arma alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito dalla legge mentre hanno proceduto all'identificazione di 43 persone e sottoposto a verifica 16 veicoli con conseguente elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 2000 euro. Tre giovani, successivamente segnalati quali assuntori alla prefettura, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale mentre è stato attuato un vasto controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari. È proprio in uno di questi controlli che i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di AC Reale hanno tratto in arresto in flagranza un 43enne, un pregiudicato di AC Catena per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione. I carabinieri, poco prima di accedere all'ingresso di uno stabile nei pressi di via Jacopone da Todi, hanno notato uscire da quell'area condominiale un uomo alla guida di un'auto, risultata poi oggetto di furto. riconoscendolo quasi subito perché è sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di AC Catena. Il 43enne, pertanto, bloccato con l'auto dai militari e dopo aver visto uno dei carabinieri scendere dalla gazzella, ha inserito improvvisamente la retromarcia, rientrando nell'area condominiale e sfondando un cancello di un'uscita secondaria, guadagnandosi così la fuga. Ostacolati dalla presenza a terra del cancello di Velto, i carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del fuggitivo, recandosi anche presso la sua abitazione di AC Catena, dove alcuni familiari di quest'ultimo hanno cercato di ostacolarne l'attività, impedendo loro l'accesso alle stanze per verificarne la presenza. Nonostante ciò, i carabinieri hanno visto il 43enne giungere dal piano superiore dell'abitazione e con estrema nonchialanza riferito loro di non essersi recato ad AC Reale, salvo poi, quando i militari ne hanno riconosciuto sul letto e vestiti da lui poco prima indossati, andare in escandescenza con atti autolesionistici e continuando in tale comportamento fin anche all'interno dei locali della caserma accese, inducendo così i militari dell'arma a richiedere l'intervento di personale del 118. Il 43enne è stato poi ricondotto ai domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto. È tutto, chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS